Ciao a tutti ragazzi, io sono Rayon, bentornati sul mio canale, bentornati a una nuova puntata di Earth of Iron 4 con l'Italia. Questa probabilmente sarà o l'ultima o la penultima puntata del tutorial, comunque abbiamo visto un po' di meccaniche. La partita è praticamente quasi finita, perché siamo nel 42, insomma stiamo avanzando nell'Unione Sovietica, gli Stati Uniti hanno fatto delle invasioni andate decisamente male, si sono fermati a 265k, praticamente in Africa abbiamo vinto, insomma la situazione è abbastanza stabile. Ecco una cosa che vorrei fare è sistemare un attimino la situazione del Garrison, innanzitutto fare anche un pochino più di fuel in queste zone, quindi diamo priorità al fuel così riusciamo a avere un po' più di entrate. Andiamo a sistemare un pochino il nostro reggimento di cavallina, nonostante abbiamo dei problemi di manpower, comunque ce li andiamo a gestire così. Voi in generale qua non servite più, tre li possiamo tranquillamente cestinare. Cambiamo la legge in Turchia commerciale, che è quella un pochino più efficace per ridurre la resistenza all'occupazione, poi la andiamo a modificare successivamente. Qua diciamo la situazione non è molto critica, cioè siamo messi abbastanza bene, quindi andiamo così. Qua stiamo finendo la conquista dell'Iran, l'unica cosa che vorrei fare è un attimino, ecco attenzione in queste zone, allora noi abbiamo, dobbiamo un attimino cancellare quest'ordine, esatto, e metterci a guardia dei porti in queste zone della Spagna, in questo modo 26 divisioni, va bene. Ci servono un po' di divisioni, ma non fa niente, loro comunque adesso si disporranno, secondo la loro logica, piano piano si sistemano e qua allora dovessero servire, ecco, passeranno altre, le nostre unità passeranno ad entrare, andranno in difesa nella nostra zona, quindi abbiamo respinto, qua è una bella battaglia. Per quanto riguarda la giustificazione qui, possiamo provare, giusto per togliere un po' di, ecco, di, di fuel. Ecco, un'altra cosa pure che vorrei fare è comprare un po' di fuel, magari dal Venezuela, ne compriamo tre, e dall'Iraq uno. Ok. Ok, il manpower ovviamente si è abbassato ancora un po', ma al momento non ci interessa combattere, anche se effettivamente siamo al fronte. 246, 39, stiamo perdendo un po' di uomini in questa zona e anche un po' dall'effettivamente dal Garrison, anche se comunque con la nuova legge dovremmo andare abbastanza bene. Quanto manca qua per la nostra giustificazione? 19 giorni, ok, firmiamo, perfetto, sì. Anche qui la situazione sta procedendo al meglio, quindi stiamo praticamente avanzando a vista d'occhio in Africa. Andiamo affondando un po' di navi, perfetto. Al momento ci si sta anche ricaricando il fuel. Oh, attenzione, un'altra invasione, quindi andiamo subito in difesa. Ma insomma, non riusciranno mai ad entrare, cioè abbiamo troppa, troppa, troppa difesa. 600, torneranno poco attacco. Insomma, una condizione di questo tipo, una volta preso l'Iran e quindi... Cioè l'Iraq, l'Iraq, scusate, potremo tranquillamente spostare le nostre truppe che adesso stanno in Africa, in Spagna e proteggerci quindi dalle varie sbarche. Abbiamo finito anche la conquista. Io andrei a potenziare... Magari lui, ma anche se siamo un po' in ritardo. No, andiamo di qua, andiamo a potenziarci un altro fuel. Voi chi siete, scusate, sapete che non mi ricordo chi sono loro? Ah, voi state qui? Che ci fate qua? Ah, loro forse chi erano? Ah, quelli dell'asse. Ok, questo era un carro nuovo. Perfetto, rimane qua. A questo punto magari gli do un generaletto, no? Sai qui? Perché non dartelo? Dichiariamo guerra, ovviamente conquistiamo il tutto, anche se ho dei dubbi... Ecco, qua mi sono scordato di fare il piano d'attacco. Ho dei dubbi. Credo che vada poi... Ops... Tutto in mano alla Germania, Perché comunque qua c'è la Francia tedesca e anche qui. Quindi credo che... Vada tutto in mano alla Germania. Allora, voi passate qui. Io vado diretto perché in questo modo riesco ad entrare... Diciamo senza troppi problemi, occupandogli le varie truppe. Voi entrate qui e poi spingete fino a qui. Vedete, praticamente sto passando su tutte le varie province, In modo tale che questa diventa una guerra lampo. Ok. E voi? Cerchiate di qua. Vai. Ok, quindi questa praticamente diventa una... Una cosa davvero rapida. E mi vado subito a fare la costruzione. Ah, qua ci abbiamo anche delle truppe che non fanno nulla. Perché nel Saudi... Tu non c'avevi del fuel? Se è 4, che ci faccia? Però potremmo... Potremmo bugarli qua, effettivamente. Non lo so, ragazzi. L'idea potrebbe anche essere di mandare le truppe qui E finire questa parte. Diciamo, difendere un po' le varie invasioni. Ah, no, me l'ha dato a me. Perfetto, me l'ha dato a me. Quindi sono riuscito a farla capitolare E prendermi il fuel che mi serviva. Meno male. Ehm... Meditare il cuorista? Assolutamente sì. Continuiamo. Dovrebbe capitolare? Sì. Vediamo un po'. Eh, niente. Da petrolare la Germania. Va bene, così. A questo punto. Conquistate. E non ci conviene andare in Iran. Alla fine. Perché l'Iran... Ehm... Ci fa praticamente da cuscinetto sull'Unione Sovietica. Anche se effettivamente potremmo utilizzarla al contrario. Cioè potremmo noi entrare. Ma... In questo momento, con questo problema... Poi come in Power... Non me la sento di... Di entrare. Eh... Piuttosto preferisco magari... Ehm... Mandare le mie truppe... Ehm... Qui. Ehm... Le mandiamo qui. In modo tale che siamo pronti a intervenire qualora servisse. Perché tanto qui... Ehm... Diciamo che ci siamo. Ehm... Allora... Savoia c'ha dei problemi. Scusate che sistemiamo anche Savoia. Allora, eh. Come andiamo con la Turchia? Vediamo un po'. Allora... Fermi tutti. Ah, con la Turchia piano piano ci sta abbassando. Ma anche qui mettere legge marziale. Ehm... Eh, non la vedo. Vabbè, comunque... Non è questo gran problema. Ehm... Dove state entrando? Da nessuna parte. Ok. Credo che sto facendo... Ho fatto una stupidaggine? Ah no, stanno passando a piedi. Perfetto. Bravo. Io ho andato a piedi perché... In mare... Non mi pare il caso visto come abbiamo gestito le ultime truppe. Allora, qua invece che sta succedendo? Ok. Qua lo stanno praticamente andando dritti. Quindi stiamo... Bugando in malo modo... Le nostre... I nostri avversari. Ma sì, qua entriamo in Belgio. Il Portogallo mi pare che ancora non si è schiariato con nessuno, vero? No, non mi pare. Mi pare non ci sia... Non ci sia nulla. Voglio vedere un attimino invece gli uomini... Sette milioni, quattro milioni. 300k. Ah, non abbiamo visto... Non abbiamo visto l'oro. C'è quasi 500. Mentre con gli aerei credo che... Possiamo anche spostarli. Quindi tu ti puoi spostare qui. E voi potete tranquillamente volare qui. E andare a supportare di qua a questo punto. Ok. Quindi qua in... Nella Polonia in questo momento non ci interessa. Dunque abbiamo vario supporto. Abbiamo altri aerei? Sì, ok. Che mi supportano qui. Altri che mi supportano qui. Perfetto. Le nostre truppe stanno arrivando. Sì, sono in viaggio sulla metropolitana. Mi sono quasi arrivate. Qui le cose stanno andando molto bene. Io direi di andare a velocità 4. 5 ragazzi. Eh sì. Vedete? Non riesciranno mai a passare. Cioè... Queste sono di solito quelle partite dove io... Tendenzialmente chiudo un po'. Perché comunque... Non ho più la... Non ho la voglia. Perché in realtà la voglia ce l'ho. Non ho più la... Lo stimolo ecco di andare avanti. Cioè dovrei semplicemente mandare a 5. Reggere, reggere, reggere. Finché poi la Germania non... Non finisce. Tendenzialmente. Diciamo... Questa partita l'ho giocata... Anche abbastanza male. Dicevo l'ho giocata abbastanza male. Perché ho gestito troppa roba. Ok, vedete? C'ho anche un deficit di anti-air. Che potremmo andare subito... A compensare, ma... Ne vale la pena. Forse neanche vale la pena toccare... Ok. Dicevo. Eh... L'ho gestita male. Perché ho toccato troppo... Troppo... Eh... Troppo poco... Beh, non mi si è sembrata, no? Non sono stato molto attento né alla gestione delle mie navi, né tantomeno alla flotta che sono andato a creare. Così non entreranno mai. Comunque nel dubbio... Eh... Vedete? Qua stanno per passare. Quindi che cosa facciamo? Noi andiamo a mettere... Eh... Anzi andiamo a fare un ordine di questo tipo. Facciamo così, che viene molto meglio. E... Ecco, voi annulliamo tutto l'ordine. E lo mettiamo con te. Ok. Lo diamo proprio... Anche qui, qui, qui. Eh... Ma qua non passate. Perché è chiuso. Quindi qua... Teoricamente non dovreste passare. 20. Ci dovremmo essere... Ma stiamo su Aquitania, ragazzi. Eh... Ci dovremmo essere. Giusto. Per scrupolo lo metto qui. 45. Quindi vai. E... Perfetto. Questo ordine lo possiamo buttare. E... Beh... Perché non vi muovete? Dovano otti. Bravi. Ok. Perfetto. Quindi adesso andiamo così. E... Pronti comunque a fare fuoco ovviamente qua. Perché le truppe sbarcano qua. Quindi la superiore di aeree ci serve qui. E... Siamo comunque... Possiamo sempre poi andare a spostare gli aerei. Ecco, sono passati. Ma adesso ho parlato, ragazzi. Allora, ci prendiamo un attimino i miei carri. E i miei carri li mandiamo qui. Quindi... Questi li mandiamo qua. Ok. E li mandiamo ad attaccare rapidamente. Ok. Eh, ho parlato, eh. Allora, dovremmo riuscire a reggere anche questo tipo di... Di sbarco. Eh... L'unica cosa è che... 600k... Forse andare a mettere... Eh, ho finito i gas. Ho finito i gas. Vediamo un po'. Eh... Qua siamo messi male, eh. No, vi è 700 aerei. Ma non siamo messi un granché. Qua. Allora, qua possiamo spostare... Eh... Uno. E... Eh... Tu sei fighter. Mi servono dei gas. Ok. Voi vi spostate qui. Al momento. Eh... Li stiamo vincendo. Allora mi bugano? Sì, ci possono bugare tranquillamente, ma... Annulliamo e riattacchiamo. Anzi, facciamo così. Annulliamo e riattacchiamo. Ok. Stanno arrivando anche i nostri aerei che li andiamo tranquillamente a schierare qui. Spendiamo gli ultimi 20 punti di comando che ci rimangono. E... I gas. Qui. Perfetto. Abbiamo... Abbiamo retto, no? Sì. Solo sono passati di qua. Quindi prendiamoci tutti i carri, al solito. E andiamo. In questo modo, magari, con un po' di... Sorveglianza aerea, anche... Magari mettiamoci qua, a questo punto. E spostiamo di qua. Vedete, in questo modo, sì. Ci possiamo spostare gli aerei un po' più... Come... Come ci sono comodi. Come ci sono comodi. Perfetto. Abbiamo anche ripreso. Chi manca qua? In Europa, scusate. Quale? Ah, poi è giusto questi battle plants. Ok. Andiamo subito a cancellarli, che tanto non servono più. Un attimo, che mi si sta scaricando il telefono per... Ok. Perfetto. E c'ho il... Il conteggio di quanto gioco. Perché, di solito, quando vado, non mi rendo conto... Che magari sto giocando un quantitativo di tempo industriale. Magari faccio un video e dura 45 minuti. Dico, porca miseria, ho giocato forse un po' troppo. Ok, altra invasione. E... Penso che vai giù. 12. Beh, mi sembra un po'... Mi sembra un po' un insulto. Ecco, mi va a trego. Qua come vanno? Certo, stiamo difendendo con dei carri. Un po' bruttino. Un po' bruttina la difesa con i carri. Forse... I carri li dovremmo mettere... In feedback. Eh, sì. Forse magari mettere i carri in feedback. Anzi. Mettere i carri così potrebbe venire male. Non abbiamo divisione in training, va bene. In Africa. Ok, procediamo ancora. Il fiore l'abbiamo ripreso. Manpower quasi. Quindi a breve vado anche a cambiare. Eh, si vedete, stanno continuando, ma... Aver portato le truppe a difesa di un'ipotetica invasione... Ha sicuramente aiutato. Eh, non mi puoi portare questo, eh. E lo compriamo da loro. Almeno uno. Ok. Ci ha dato una grossa mano. Le motorizzate... Ma forse il recovery rate potrebbe aiutarmi un po'. Fare una cosa d'economy... Mi serve un po' l'output. Forse il recovery rate potrebbe aiutarmi, magari... In una condizione di invasioni. Ma anche qua abbiamo... Abbiamo retto. Praticamente... Gli americani si stanno schiantando a gogo. Come state messi? Eh, male male. 4 milioni. 6 milioni. Hanno quasi finito il manpower qua. 300. Qui. 50. Belgio. Sì, praticamente... Beh, ragazzi, direi che ci siamo. Insomma, ecco, queste fasi, ripeto... Eh, secondo me sono un po' quelle fasi che... Eh... No, bloccano il gioco. Perché non è neanche... Non è neanche vero. Sono quelle fasi che... Dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare che... Come era poi effettivamente la guerra un tempo, sfortunatamente. Che... Eh... Gli avversari perdano gli uomini. Cioè... La guerra di trincea. Quindi questo tipo di... Eh... Di guerra. La prima, soprattutto. La prima guerra mondiale. Ma anche la seconda. Erano... Chiamate anche guerre di trincea. Più la prima che la seconda, ripeto, ragazzi. Perché? Eh... Perché erano... Mh... Delle guerre che spesso venivano vinte... Prendendo allo sfinimento gli avversari. Cioè... Eh... Finivano... Finiva il cibo. Finivano le munizioni. Finivano... Eh... Gli uomini. Eh... Finivano... Una serie di risoporze. Eh... Ovviamente... Cioè, non vuol dire che tutta la guerra era così. Assolutamente no. Però... C'erano certe battaglie che sono state vinte per sfinimento. E non effettivamente per una bravura. Qua sto parlando molto della prima guerra mondiale, eh. Eh... Che è stata decisamente più strutturata su questo tipo. Ma anche la seconda, comunque. Certe zone. Eh... Sono state vinte... Eh... Certe battaglie sono state vinte per sfinimento. Insomma. E di conseguenza, eh... Questo è proprio, diciamo, quel momento in cui noi dobbiamo prendere allo sfinimento i nostri avversari. Finché non finiranno le loro risorse, che in questo caso viene raffigurata dal Manpower. Eh... Noi attualmente abbiamo quasi un milione, quindi da soli siamo più numerosi degli Stati Uniti, che hanno 600, e The United Kingdom. Sicuramente gli Stati Uniti continueranno a sfornare Manpower a non finire. Quindi avremo sempre la difficoltà di doverci difendere dalle invasioni degli Stati Uniti, ma in una condizione di 1180 in difesa, trincerati e tutto quanto. Insomma, il supporto aereo. Eh... Sì, certo che ci prendiamo almeno questo. Cioè, mi stai togliendo tutto. Mi hai tolto la Turchia. Mi hai tolto l'Iran. Mi stai togliendo la Francia. Mi hai tolto tutti i territori che potevo conquistare. Insomma, magari un po' di Lendeleys me la potresti anche dare. Grazie. Perché, ma scusate, cos'è che mi viene a mancare che mi danno questa TNL? Soprattutto sono un poveraccio. Ah, forse il support equipment mi viene a mancare. Allora, sì, dobbiamo sistemare il support equipment. Cinque. Mmm. Diminuiamo un po' questi carri. E... L'artiglieria va bene. Eh, questi support equipment a cinque... Eh, vabbè, 48 giorni, tutto sommato. E... Li assegniamo. E continuiamo. Anche perché loro continuano a perdere uomini su uomini. Non capisco perché qui non attaccano sulla Francia, no? Cioè, siamo tentennando in Africa per dell'incurio da parte dei nostri alleati. Allora, vorrei vedere invece la situazione dei territori occupati. Come va? 30% in Francia, 29% in Turchia. Perfetto. Abbiamo anche sistemato questo. Ehm. Forse andrei a cover production. Tiriamo su gli aree che ci vanno... Ok, militar police. Perfetto. Mantenni... Allora, sì. Ok. Ok, abbiamo anche il nuovo modellino dei carri armati. Ehm. Antieri siamo un po' schersini, effettivamente. Le dottrine le avevamo finite. Dottrine navali, lasciamo stare, le abbiamo fatte veramente male. Ecco, se io avessi investito, no? Guardate. Se io avessi investito uno, due, tre ricerche su questo ramo... A questo re sarebbe stato uno, due, tre. E mi mancava poco per terminare un albero tecnologico. Stesso discorso, ragazzi, per l'investimento magari fatto su navi migliori, no? Adesso sto parlando delle navi contro gli aerei, ma potrei dire... Potrei fare il discorso al contrario. Quindi potrei magari andare a dire... Ehm. Vado a modificarmi un attimino il carro. Tanto i punti li ho. Vado ad aumentare un po' l'area abete del carro. Per 20%. Anche se potremmo tenerla anche qui. Ehm. Ehm. E vado ad aumentare i danni che va a fare. L'armatura non ce la faccio. Non ce la faccio. Ehm. Ci dovremo essere. 450. Sì. Serie. Ehm. Prima serie. Prima serie ci piace. Vai. Perfetto. Adesso cambiamo un po' di tempo. Ovviamente qui i numeri aumentano a dismisura. Qua non serve più a niente. E possiamo... Possiamo anche rimanere così. Ok. Ora l'idea di cambiare questa legge. Sì. Ok. Per il manpower siamo messi bene adesso. Abbiamo un milione. Più che bene. Ehm. Qua siamo a posto. Facciamo anche lui va. Prendiamoci le risorse che ci rimangono. Stiamo producendo anche un po' di aerei. Quindi il supporto game dovrebbe essere molto 30 giorni. Perfetto. Andiamo un pochino più rapidi. Ok. Ce la farete voi a riposizionarvi e fare ciò per cui vi ho portato in Africa? Cioè la cosa mi fa rosicare no? Lui si è preso. Questo a me mi ha lasciato territori che non hanno nulla. Mannaggia. Ma tu guarda. Vediamo un po' la situazione degli Stati Uniti. Come siamo messi. Un milione. Eh stanno aumentando. Qua sempre 200. E qua quasi. Ecco in realtà. Finita l'Africa dovremo portare. Ecco questo per esempio potrebbe essere motivo per continuare la nostra campagna. Anche se. Anche se. Non so se farò un altro episodio. E portare le nostre truppe qui in o magari anche qui in sul fronte sovietico. E iniziare a spingere un po'. Ok. Qua abbiamo problemi con l'Africa. E perché comunque qua ci dobbiamo difendere dagli americani. Quindi potremmo portare almeno i carri che abbiamo qui in Spagna. Portarli in. Nell'Unione Sovietica. Oh attenzione sta entrando con dei carri il tuo anotto. Bah comunque non credo che tu riesca a vincere 1700 di difesa. Può diventare verde ma. Non credo ce la farai. Ehm. Allora. Allora gli dovrei dare anche tutta questa zona. Ma devo farci il sincero. Insomma nell'Africa. Mi interessa fino a un certo punto. Ah stiamo iniziando a perdere però. Vabbè. Ah è entrato da qua. Ok. Ehm. Voi. Eh porca miseria no. Potete prendermi. Uno. Due. E voi mi andate qui. E voi pure. Mi andate qui. Mi prendo un attimo i carri che mi servono. E vi porto. Qui. Ok. Vai. In questo modo andiamo a risolvere un po' l'invasione che c'è arrivata da sopra. Credo che qua. Eh no. Lo facciamo dopo. Ci andiamo a togliere questa zona. Effettivamente non stanno passando. C'avevo ragione. Una volta che ci siamo portati i miei carretti. Ok. Dove siete i miei carri. E entrate qua. Vai. In modo sempre brutale. Tanto comunque pushano insieme alle nostre unità. Ok. Adesso che dobbiamo proteggere comunque anche la Normandia. Effettivamente. La Normandia. Ma che sto dicendo? Sì la Normandia. La Normandia ragazzi. Avevo detto bene. Avevo detto bene. Avevo detto bene. Dobbiamo proteggere la Normandia. E vai. Andiamo qua. Vabbè. Ce la facciamo? Dai. Non mi direi che... Dai. C'hai quattro eri caccolosi qua. Eh sì. C'hai quattro eri caccolosi. Su. Vai giù. E... A livello di ricerca ingegneristica. Insomma. Potremmo fare i radar. I missi nucleari. Cosa di questo tipo. Ma... Non mi sembra... Mi sembra necessario. Andiamo magari a aumentare l'artilleria. Va? Ok. L'abbiamo preso. Quindi... Ehm... A questo punto. Voi assolutamente tornate qui. Noi andiamo a togliere questa zona che non serve più. E andiamo a proteggere la Normandia. 45 divisioni. Ce l'abbiamo. E andiamo. E in Africa. Stiamo andando avanti. Come al solito. Dovremmo essere riusciti forse pure ad arrivare a convincere... I nostri... I nostri... Eh qua non ci abbiamo... Ci abbiamo poco supply. I nostri compagni... I nostri alleati magari ha... Ma scusate. No a voi. Ma perché pure voi? No. Ma tutti me li ha messi. No. No, 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 no. Cancella tutto. Fermi tutti. Fermate tutto. Ecco perché... Ah, forse avevo... Avevo cliccato male, ragazzi. Eravate voi che dovete avere il feedback... Il feedback. E non il resto. Ecco. Andatevi un po' a rischierare. E appunto... Eh, mannaggia. Questo mi ha... Mi ha costato un po' questo errore. E mo' loro passano qui. E questo non ci voleva. Però dovremmo vincere? Beh, pare di sì. Pare che vinciamo. Anche se non... Meravigliosamente bene. Eh... Sì. Eh, questo errore mi ha costato un po' di... Di trambusto. Riportiamoci... Ok. Riportiamoci i carri. Ah, mannaggia, mannaggia. Ok. Ok, quindi qua... Dobbiamo dare... Prendere tempo in modo... Ok, stanno arrivando i nostri carri. Magari non dal fiume. Ma... Da... Ce la fate a passare? Oh, ce la fate? A fare un metro? Ok. Entriamo così. Qua sotto siamo messi bene, sì. Eh, vabbè, qua li prendiamo con i carri. Insomma, non ci sono grossi problemi. Ok, va bene. Vero, mi bucano tutto, eh. Me lo bucano, però... Anche perché mi pare che i miei carri non sono da 40, vero? No, infatti. Eh, li facciamo diventare subito da 40. Anche perché li ho. Con anche le macchinine. 51.000 di manpower addizionale, sì. 3.000 in fronte di equipement. Motorizzate li abbiamo. E medio in tank li abbiamo. Vai. Ora, qui ci subiranno una botta all'organizzazione non indifferente. Però... Saranno un pochino più performanti in battaglia per fare questo. Allora, questa puntata durerà un pochino di più, ragazzi. Sto facendo se il timer siamo circa una trentina di minuti. Però, almeno, respingo loro e facciamo le considerazioni finali della partita. Ok. Ok, voi siete passati. Date. Questa cosa dei carri l'avrei dovuta fare prima. Assolutamente. Ok. Ok, l'abbiamo respinti? Sì, l'abbiamo respinti. Perfetto. Ok, adesso questi carri non verranno più evocati con tanta facilità, sinceramente. Una volta che entreranno... Comunque avranno un'armatura abbastanza grossa. Ora, io lascio scoprire il tempo, tanto il quadro della situazione non cambia. Allora, l'idea del tutorial, ragazzi, mi auguro di avervela data. Cioè, il... Anzi, facciamo così. Le considerazioni le lascio al prossimo episodio. Così potete finire di terminare la serie e io poi vi parlo del perché effettivamente ho deciso di interrompere la qualità delle motivazioni e quali erano soprattutto gli obiettivi di questa serie. Quindi, se il video vi è piaciuto, ragazzi, commentate. Per qualsiasi dubbio, semplice, considerate, mi trovate sempre su Discord. Commentate sotto al video e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, ragazzi.